La punizione calciata da Edu Marangon è deviata dalla barriera per la precisione da Pinna e per Martina, uno dei tanti ex in cerca di vendetta, non c'è proprio nulla da fare. Cinquesimo, l'azione parte dal migliore in campo, il giovane Zago che confina Müller fra le riserve, quindi tocco di scoro per Edu Marangon che non sbaglia. Il raddoppio arriva al ventisettesimo con questa punizione di Edu che strappa applausi anche agli sportivissimi sostenitori comaschi.